Un uomo di 66 anni ha perso il controllo della Renault Kangoo che stava guidando, imboccando la rampa a contromano e finendo quasi subito fuori strada. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Ivrea, Castellamonte, la crocerossa di Castellamonte e i carabinieri. Alla base della perete di controllo della vettura potrebbe esserci stato un malore. Gli accertamenti sono in corso. L'uomo, subito soccorso, è stato trasportato all'ospedale di Ivrea. Grazie a tutti. Grazie a tutti.